Un minuto. Thank you. Belluno impara. Belluno si è laureata nel dicembre dell'anno scorso Città Slow, però questa laurea bisogna farla fruttare. Siamo qui per parlare di questo. Naturalmente si è laureata superando, questo è il registro con i voti, cioè la certificazione di Città Slow internazionale, 72 criteri di qualità divisi in 7 macro aree, che prevedono un po' tutte le politiche che sono dentro una città che vuole traguardare il buon vivere, come diciamo. Buon vivere oggi sembrava uno slogan, ma oggi in tempi di post o di ancora non post pandemia è molto chiaro cosa significa il buon vivere. Esattamente il contrario di quello in cui siamo finiti dopo questa tragedia collettiva. Bene. Le materie sono tante, dicevamo, dalle politiche per l'ospitalità, le politiche di coesione e di inclusione sociale, le politiche per le infrastrutture green, le politiche agricole di agrobiologia, di attenzione naturalmente all'ambiente, politiche ambientali. Non lo diciamo a voi di Belluno che siete, dicevamo, diceva il sindaco stamattina nell'introduzione, l'unico capoluogo di provincia italiano che ha all'interno appunto un parco nazionale, a prescindere poi dalla riserva UNESCO, eccetera. Beh, devo dire che queste materie tutte, i voti di Belluno sono alti. Oggi abbiamo appunto messo il focus anche su indicazione dell'assessora Yuki De Miglia sul tema la filosofia del buon vivere come risorsa turistica. Perché sul turismo magari c'è qualcosa ancora da fare, già molto è stato fatto ma sicuramente c'è qualcosa da fare. E come lo facciamo? Lo facciamo con un parterre davvero d'eccezione, perché avere qui, naturalmente, oltre al sindaco di Belluno, al quale adesso passo subito la parola, il sindaco di Asolo, che è il nostro presidente internazionale, più abbiamo Tunce Sawyer, che è il nostro vicepresidente, è il sindaco di Izmir, area metropolitana turca. Abbiamo Christian Leclerc, che è coordinatore della rete belga e sindaco di Silly, in Belgio, vicino a Bruxelles. Poi abbiamo Jacek, Jacek Kostka, che è coordinatore della importante rete di Città Slow polacca e sindaco di Gorovo Igliavece. Sentiremo da ciascuno le loro esperienze e poi andremo a terminare in loco con persone, sindaci, in questo caso un sindaco, Mattia Perencine di Farra di Soligo, e Vera Rossi, vice sindaca di Altavalle Grumesse in Trentino, l'altro Trentino, poi ne parliamo insieme. E quindi sentiremo, innanzitutto, la parola di introduzione al nostro sindaco, Jacopo Massaro, e poi sentiremo le esperienze di ciascuno. A quel punto, se c'è spazio faremo anche lo spazio domande, question time, altrimenti comunque avremmo passato sicuramente una serata tensa e importante. Prego, Jacopo, a te. Grazie, direttore. Beh, allora, innanzitutto vi do il benvenuto a Palazzo Bembo, che possiamo svelare oggi che è sostanzialmente la prima volta che questo palazzo ristrutturato viene utilizzato per un impegno di così elevato rilievo. È stato ristrutturato ovviamente nel corso di molti anni, perché è stato un restauro molto impegnativo. Questo era un convento del 1500 circa, poi era stata la sede dell'ospedale di Belluno per tantissimi anni, poi abbandonato e il restauro è stato ovviamente molto difficile. Doveva essere la sede di grandi mostre, ma poi è cambiato il mondo, sono cambiate le necessità economiche e quindi ovviamente adesso è stato trasformato in un luogo dove sì, si faranno anche delle mostre culturali, ma si fa anche molto lavoro, diciamo, di progettazione, di approfondimento, di studio, diciamo, culturale in generale. Ma io parto da questo pensiero, se parliamo del turismo, parto da questo pensiero, e cioè mi sono sempre chiesto, visto che io vengo da una generazione che ha vissuto un certo mondo, anche se ero piccolino, ero bambino, e poi oggi vive un altro mondo, mi sono sempre chiesto come mai un tempo tutto era legato all'usa e getta, tutto era legato alla nuova costruzione e mai alla ristrutturazione degli edifici. E la chiave è molto semplice alla fine, probabilmente era una convenienza prevalentemente economica, costava meno usare e gettare, costava, perché la costa di produzione era sceso, costava molto meno costruire un nuovo edificio piuttosto che ristrutturarne uno che già esisteva. Quindi è una chiave assolutamente molto banale, se vogliamo, però è un punto di partenza molto importante, credo. Ecco, questo equilibrio ha retto per alcuni anni, fino a quando probabilmente c'era questa convenienza economica e c'era la disponibilità di risorse che consentiva questo tipo di approccio alle nostre città. C'era questo equilibrio, questa ricerca da parte di tutti, ovviamente di migliorare la propria qualità della vita, sapendo che si poteva contare su determinate risorse. Ecco, siamo in una fase oggi, evidentemente, di grande cambiamento. Di sicuro è un cambiamento enorme per quanto riguarda il nostro paese in Italia, ma credo di poter dire che è un cambiamento che riguarda un po' tutti, tutta l'Europa e anche paesi fuori dall'Europa, probabilmente oggi stanno vivendo una fase di assoluta trasformazione. E c'è il rischio, quando si è in una fase di trasformazione, ovviamente di non individuare la strada corretta da percorrere per riuscire a secondare, per riuscire a costruire questa transizione, questo cambiamento. Ecco qua, noi a Belluno abbiamo fatto un lavoro un po' in controcorrente, perché dal 2012, da quando c'è questa amministrazione, abbiamo lavorato sempre ed esclusivamente sull'idea che si dovesse far crescere sempre la qualità della vita e che questo dovesse servire per i cittadini e per coloro che venivano a visitare Belluno. E questo ha portato anche delle critiche, ha portato delle critiche perché molti dicevano per quale motivo dobbiamo sforzarci ancora sulla qualità della vita, visto che a Belluno la qualità della vita era già buona, non era insufficiente, era sicuramente buona. E in verità abbiamo ritenuto che quella fosse la chiave, diciamo, per affrontare il futuro, sapendo anche che il nostro territorio è molto bello, mi permetto di dire che è bello, ma è estremamente fragile ed è un territorio caratterizzato da tanta industria e sappiamo che l'industria, se va in crisi, lascia poi a casa tante persone. E questo è un territorio che non è neppure di passaggio, quindi è un territorio che se entra in crisi economicamente fa fatica ad uscire dalla crisi. E quindi abbiamo cercato di lavorare sulla questione della qualità della vita e paradossalmente questo lavoro non solo ci ha portato a incrementare molto i nostri indicatori di qualità in generale, ci ha portato molto turismo in più rispetto al passato, possiamo sempre crescere, però i dati sono buoni, ma soprattutto ci ha fatto affrontare la crisi del Covid in questi due anni e prima la crisi di una tempesta molto potente che c'è stata proprio in questa zona, si chiama Vaia, ed è una tempesta che ha veramente devastato il nostro sistema delle infrastrutture e ce l'ha fatto affrontare in modo complessivamente buono. Incredibilmente durante il Covid noi abbiamo ridotto i livelli di disoccupazione a Belluno e siamo in controtendenza rispetto più o meno a tutte le altre zone. il reddito medio ha continuato a crescere, abbiamo una crescita anche demografica quando tutte le zone montane si stanno spopolando in Italia, quindi qui andiamo un po' in controtendenza, abbiamo migliorato gli indicatori sulla sicurezza, sulla sicurezza sociale, alcuni indicatori ambientali e questo è nella fase di più grande crisi. E io credo che sia anche il merito del fatto che grazie ai cittadini di Belluno che sono molto aperti nel cogliere la sfida della qualità della vita come valore aggiunto siamo riusciti probabilmente ad andare in questa direzione. Ecco, faccio, diciamo, fatta questa premessa, non voglio affermare che abbiamo trovato la strada giusta a Belluno perché tutti noi sindaci abbiamo delle ricette diverse diciamo, per le sfide del futuro, però sicuramente abbiamo provato sul campo che questo tipo di strada è una strada che vale la pena di percorrere. Ora però è una strada che non possiamo abbandonare ma che dobbiamo, credo, far crescere ancora anche perché in questo momento abbiamo un potenziale di sviluppo turistico che è ancora enorme. Noi abbiamo, credo, è un territorio questo che può dare tanto ancora dal punto di vista turistico per il suo sistema ambientale, per la qualità della vita, per tanti altri indicatori e abbiamo davanti una grande possibilità di espansione. E questo, credo, mi permetto di dire che probabilmente è la strada che dovremmo percorrere tutti non solo Belluno, non solo le città slow ma un po' tutti perché, ritornando all'esempio che facevo all'inizio o noi rendiamo economicamente attrattivo il nuovo modo di intendere la nostra società e le nostre città e quindi renderle più interessanti dal punto di vista ambientale renderle più sicure dal punto di vista sociale ma rendendo attrattiva economicamente questa prospettiva a differenza di quello che avveniva in passato oppure noi non riusciremo mai a cambiare e a agganciare la trasformazione che è necessario effettuare. E quindi, come rendere attrattiva la qualità della vita visto che la qualità della vita costa cioè avere una qualità della vita ovviamente richiede investimenti beh, per esempio, il turismo è una chiave che sicuramente può rendere sostenibile questo perché quando la qualità della vita diventa attrattiva anche per persone che non sono nella nostra città chiaramente le città vengono danno uno slancio economico e quindi ovviamente rendono sostenibile il cambiamento positivo di cui c'è bisogno un po' dappertutto ed è il motivo per cui dobbiamo sicuramente lavorare. Secondo e ultimo aspetto della questione credo che non possiamo avere l'ambizione di migliorare il nostro mondo partendo dal nostro piccolo se lo facciamo individualmente questo possiamo farlo esclusivamente se costruiamo reti se costruiamo confronto se costruiamo alleanze fra città diverse che hanno lo stesso scopo che è uno scopo nobile perché non è solo appunto migliorare se stessi ma è migliorare il mondo nel complesso e credo che per noi entrare in città slow sia stata un'opportunità straordinaria e io ringrazio veramente tutti per averci accolto in questa importante associazione perché non soltanto certifica un lavoro fatto e questo ci fa piacere grazie per Giorgio che prima hai fatto vedere la pagella che per noi è ovviamente motivo di orgoglio ma credo che sia una grossa opportunità anche dal punto di vista economico per i nostri operatori perché una cornice adesso è stata costruita ci sono delle relazioni con tante città che noi apprezziamo molto e di cui abbiamo grande stima ma soprattutto città con cui ci sono grandi opportunità per costruire insieme degli scambi delle alleanze la visione di lo scambio di pratiche ma anche la costruzione di progettualità insieme anche fra operatori commerciali operatori turistici operatori nel campo dell'agricoltura o del commercio e quindi ci sono delle opportunità molto importanti rispetto a questo noi ci siamo ci saremo spero che ci siano ovviamente anche gli operatori economici ma non non è dubito e e ringrazio tutti i presenti perché tutti insieme stiamo compartecipando stiamo partecipando insieme appunto a un miglioramento delle nostre qualità della vita ma con questo diamo un contributo credo dal punto di vista globale e penso che sia la nostra grande responsabilità in un anno come questo grazie 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 Jacopo per davvero per le tue parole e ovviamente hai messo il dito proprio nel punto fondamentale il turismo come abbiamo detto può essere ed è un'attività non solo di complemento ma è una vera e propria attività produttiva no? e quindi noi eh presidente caro sindaco di Asolo eh Mauro Migliorini cioè il tema è eh noi abbiamo insieme con tutti i sindaci delle città slow in questi anni prodotto un un pattern un sentiero una un mod un modello che chiamiamo città slow tourism voi ad Asolo voi ad Asolo siete famosi e questo ha cambiato un po' lo sguardo lo sguardo per guardare al turismo perché il turismo viene utilizzato il turismo anche in turismo industriale ma non è certo il turismo industriale che serve per le città slow che ci interessa ci interessa un altro tipo di turismo il un turismo esattamente da città slow e voi che siete famosi come la città dei cento orizzonti come la vedete e come vi siete organizzati ma in modo pratico come si organizza l'offerta come si indirizza la domanda e come comporre un pacchetto eh eh di turismo città slow turismo per le nostre città la vostra esperienza ovviamente grazie direttore di queste serie di eh domande innanzitutto buonasera a tutti benvenuti grazie eh sindaco anche di questa opportunità che eh dà a città slow di far capire che eh essere città slow non è solo filosofia ma sono anche atti concreti azioni concrete condivise dal basso cioè condivise con i cittadini che portatori di interesse con le associazioni di categoria e l'amministrazione per migliorare la qualità della della vita come hai sottolineato correttamente perché buon vivere vuol dire proprio questo migliorare la qualità della vita della nostra vita ma se eh come città slow miriamo alla miglioramento della qualità della vita nello stesso tempo per essere proprio tematici e pratici dobbiamo anche migliorare la qualità dell'offerta turistica e penso che eh per tutti noi città slow eh non solo venete non solo italiane ma internazionali un punto di vantaggio nei confronti delle grandi mette delle grandi città turistiche eh ce l'abbiamo ce l'abbiamo e dobbiamo dire grazie alla covid perché il covid ha stravolto completamente l'offerta turistica e la richiesta da parte dei eh turisti cioè i turisti e lo sappiamo tutti oggi si amano Venezia vogliono bene a Venezia vogliono bene vogliono andare a Roma per restare in Italia a Firenze a Milano a Napoli a Palermo però ricercano vogliono un turismo lento un turismo slow un turismo che città slow già da più di dieci anni continua a promuovere un turismo cosiddetto anche esperenziale e poi bisogna capirci cosa intendiamo per turismo lento turismo lento uno può pensare beh faccio una passeggiata in centro a Belluno ed è già un turismo lento no non è esattamente così turismo lento vuol dire avere eh come turista la voglia di essere attratti a soffermarsi a guardare la fresco a guardare eh il monumento a guardare il palazzo a guardare il paesaggio a guardare un orizzonte ma se il turista il turista circa questo dall'altra parte l'amministratore deve essere in grado di dare una risposta e quindi deve ehm deve mettere chiamiamoli così delle eh delle piccole eh indicazioni su ciò che io sto vedendo magari pensando sto riportando in questo momento sto pensando quello che abbiamo fatto noi ad Asolo in bilingue quindi non solo italiano ma anche inglese in modo tale da poter dare la risposta a trecentosessanta eh gradi turismo lento vuol dire anche un turismo di inclusione cioè un non turismo mordi e fuggi non lo vogliamo assolutamente ad Asolo non cerchiamo questo Asolo come città slow non vuole il turismo mordi e fuggi vuole il turista che ama letteralmente entrare all'interno degli spazi della piccola piazzetta all'interno dei eh dei condomini che ama entrare nelle attività artigianali commerciali che mette le mani letteralmente in pasta per fare il pane per fare la ceramica per eh produrre un qualsiasi tipo di oggetto eh artigianale questo è il turismo esperienziale questo poi il turista siamo certi che porta a casa questa esperienza che tocca con mano che vive con i propri gusti che vive con i propri occhi ed è il migliore canale pubblicitario che possiamo avere dicevo anche lo strutturato del covid eh in particolare magari proprio per eh Asolo per eh Follina per Faradissoligo per Belluno è stata permettetemi questa una una manna no? Perché le nostre comunità questi eh piccoli comuni questa città come Belluno eh sono ricche di sentieri sono ricche di cammini e se pensiamo che i cammini a livello europeo e lei direttore me lo insegna hanno fondato l'Europa perché i grandi camminatori che eh partivano da Roma per arrivare in Inghilterra o dal paese nordici per andare a Roma e via dicendo adesso noi non stiamo facendo altro che riscoprire questi eh questi cammini e su quei cammini è nata l'Europa perché c'è stata una contaminazione culturale c'è stata una contaminazione umana e eh dobbiamo ringraziare questi in questo momento lo stiamo eh riscoprendo dobbiamo cercare continuamente di eh valorizzarli allora all'interno delle nostri eh territori e qui calo ancora di più nella realtà la l'esperienza di di Asolo e poi il sindaco di fare di Soligo Mattia porterà la sua eh esperienza la riscoperta dei sentieri eh è stata una plus valenza perché siamo partiti prima dell'emergenza del covid e durante l'emergenza non siamo ancora fuori come ho detto questa mattina perché dovremmo capire quando ne usciremo la eh quello che ha maggior successo nella nostra eh comunità sono appunto le passeggiate le passeggiate guidate le passeggiate all'esterno perché la gente il turista magari ha anche paura tra virgolette di dei grandi assembramenti all'interno dei eh musei quindi preferisce le passeggiate all'esterno per capire conoscere tutte le varie realtà questo è anche un altro eh riflesso perché ci permette anche di tenere monitorato il nostro paesaggio il nostro territorio ci permette di mantenerlo anche manutentato e quindi di ridurre i rischi connessi anche al agli eventi avversi idrogeologici e ci permette anche di far eh vivere far conoscere quelle piccole perle che abbiamo nei nostri territori in particolare qui in Veneto pensiamo alle chiese agli oratori alle cinte muraria al campanile alle torri alle fontane che fanno parte tutto della nostra della nostra storia della nostra cultura del nostro DNA altrimenti sarebbero scomparsi se ne andrebbero nel dimenticatoio invece con questo tipo di azioni che adesso noi stiamo calando anche con le scuole e guarda caso adesso siamo partiti nel 1017 a fare i percorsi all'interno dei boschi alla scoperta delle piante le aule didattiche nel bosco adesso sono diventati dell'attualità le aule didattiche verdi noi siamo anche siamo stati fortunati perché l'abbiamo anticipato sapevamo già ma questo grazie a chi? alla filosofia di Cittaslow perché se non se non avessimo copiato da altre realtà in giro per il mondo in particolare questa idea di far conoscere i boschi di far conoscere i fiori di far apprezzare la natura ai nostri ai nostri bambini l'abbiamo copiata dai paesi nordici dall'esperienza che hanno avuto in Islanda e in Danimarca quelle città quindi noi non abbiamo fatto altro che prendere spunto da quello e tradurle nelle nostre realtà ecco quindi io io direi che posso anche chiudere chiudere qui per lasciare spazio agli altri agli altri relatori l'importante secondo me come sindaco come amministratore è quello di tenere il giusto bilanciamento tra ciò che può richiedere il mercato l'offerta turistica e il nostro prodotto turistico il nostro prodotto turistico deve essere slow deve essere non deve andare in concorrenza assolutamente con le città della cultura con le città dell'arte ma non siamo assolutamente un'altra cosa come città slow per cui dobbiamo lavorare su quello che abbiamo e guarda caso i numeri parlando di numeri prima diceva dati concreti le presenze turistiche ad Asolo nel corso del 2021 tenendo presente che c'è stata l'apertura a marzo-aprile se non ricordo male marzo-aprile facciamo pure marzo-aprile aprile-maggio giugno luglio agosto settembre ottobre-novembre in questi otto mesi sono state il 30% in più rispetto il 2019 il 2019 era stato l'anno migliore rispetto 10 anni prima quindi vuol dire che queste tipologie di scelte sono assolutamente vincenti colgo ancora l'appello del sindaco che è importante poi creare sinergie con i territori che ci stanno attorno e lavorare insieme parlando sempre delle nostre città venete in questo momento quindi Asolo Follinna Paradiso Ligo e Belluno su queste tematiche perché questo è il nostro prodotto il nostro prodotto sono il paesaggio sono le colline patrimonio dell'UNESCO sono le Dolomiti a UNESCO il parco naturale di Belluno è la nostra piccola città che ha tutta una serie di sue caratteristiche città dai cento orizzonti definita così dalla Carducci ma anche la città delle tre donne dalla regina Cornaro a Caterina a Caterina Cornaro sì alla diva del teatro Eleonora Duse alla viaggiatrice Freya Stark quindi mettendo insieme queste cose sicuramente possiamo avere un pacchetto non indifferente grazie grazie a te presidente grazie a Mauro Migliorini molto molto ficcante e interessante adesso darei la parola a Tunç Soyer Tunç Soyer come dicevamo noi l'abbiamo conosciuto che era il sindaco di una piccola o media città Slow della Turchia Seferi Sar e da due anni è stato bravo a essere eletto sindaco della città metropolitana di Izmir quindi sentendo anche cosa diceva il presidente a lui chiediamo intanto e il titolo anche della tavola rotonda cosa vuol dire essere città Slow cosa vuol dire essere città Slow in una piccola città ma anche oggi cosa vuol dire essere città Slow in una grande città e a proposito di questo quello che accennava proprio nelle ultime battute il presidente Migliorini il senso del limite perché il senso del limite è costitutivo ai valori di città Slow ovviamente c'è un limite c'è un limite proprio di carrying capacity anche turistica lo sappiamo bene certe città anche in Italia ma anche in Turchia o in Spagna hanno in giro per il mondo ovunque fino in in Cambogia i templi sono sono ormai fuori limite e questo danneggia il turismo danneggia l'ambiente danneggia il sociale porta un livello di degrado ambientale e distrugge l'esperienza anche del viaggiatore turista quindi contraddice anche la motivazione al viaggio come si fa a compenetrare oggi nella modernità questi due aspetti e tu che sei il sindaco città Slow per eccellenza della piccola e della grande metropoli puoi rispondere tra i pochi che può rispondere a questa domanda ok before coming to the question I would like to share my experience first as it is mentioned since two and a half years I'm the mayor of a big metropolitan city with four and a half million population but before for ten years for ten years I was the mayor of a small town Seferisar which population is around 40,000 and we were the first città Slow of Turkey and it was about 2009 I suppose and afterwards it spread all over Turkey and now we have 17 città Slow and today three more added at the beginning tourism was not a target for us tourism was a result how it happens we started with the criteria of città Slow with the seven to two criteria of città Slow but basically there are four pillars as I mentioned today harmony with the nature harmony with each other harmony with the past and harmony with the change these are the four pillars that we define those seven to two criteria rely on depend on so we started to implement and applic applicate those criteria to this small fisherman's town what we did is about the waste management using renewable energy sources restricting motor vehicle traffic give way to cyclists to pedestrians and we also started to take care of our past which means for example we started to restore the old buildings of the city we started to excavations of Ionian city which was 2500 years ago so all those steps created a perception about our city before there was no tourist business nothing at all although the same values were there there is no potential of tourism we didn't have tourists but as we started to become Chittas law and as we started to imply all those criteria to this small town it started to create a tourism potential cyclists started to come we supported the local production so the people from the metropolitan cities started to come and buy so the producers in this small town started to produce more and it affects each other and as the tourism potential started to rise so we decided to give some kind of courses to our people the language courses the hospitality courses and they started to transform their houses into boutique hotels instead of five stars we have now several boutique hotels in the city so a different kind of tourism potential arose because of those criteria because of the philosophy itself and because of the culture which this philosophy created so this was my experience now Sefer Isar has a tourism potential but not in comparison with the five star hotels small boutique hotels and the pedestrians and the trekking people cyclists they are coming to Sefer Isar now the difficulty started as I became the mayor of this metropolitan city because I still believe in sincerely the values of the philosophy the values of this culture and the difficulty is to implement to apply all those criteria to this huge metropolitan city we know that it's not easy but we started to implement those criteria to some neighborhoods we started we decided to start with neighborhoods in the city this transformation with those neighborhoods and throughout 18 neighborhoods we chose two neighborhoods which are very different to each other but which is a big challenge for us because those two have very different population very different cultures very different infrastructures so it has a huge difference between those two neighborhoods but we know very well that we have to achieve in both neighborhoods the application the implementation of the criteria so we have seven months left in those seven months we will have we believe in ourselves and our team that we will do the checklists the dreams of our people the needs the requirements of the criterias and at the end of this period I suppose at least in those two neighborhoods we will achieve the application of those criteria so that we can implement not only in our neighborhoods in Izmir but also all over the world everywhere how we can implement those requirements those dreams of our people because sincerely speaking I see not only rising the quality of life in a city but also for me it's the salvation of the world because all those sustainable development goals of United Nations new urban agenda of Habitat 3 all those attempts are theoretically true but there are no networks all around the world which shows us the way of implementation of those goals to the real world to the real city life to the daily lives of their people so yes exactly so for this reason Chitta Slov is not only a tool to increase the quality of life of the people but also to increase the quality life of the whole world and tourism is a result not a business to be improved throughout the Chitta Slov but it's a result so we have to adapt tools to limit tourism business according to those criteria this is what we are going to do thank you thank you thank you thank you thank you for having interpretato the question and also brought the experience so emblematica so emblematica so thank you for having brought the experience it is so illuminant for we we from the first moment and today we considerate città slow the efficacia of the città slow it is not only for the small or medie città but obviously we 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 that we work to adapt to the part of the grand metropolis which would be impossible but with the i valori pratici e la messa a terra dei progetti relativi e conseguenti ai valori, ecco che Città Slow può essere anche Città Slow Metropolis. Quindi, ok, ok. Adesso chiamo Christian Leclerc e Jacek Koska allo stage, prego. Christian Leclerc, dicevamo prima, sindaco di Silly, vicino a Bruxelles, in Belgio, è coordinatore della rete delle Città Slow del Belgio. E siamo felici di avere due vicepresidenti qui appunto, Christian Leclerc e Jacek Koska. Koska è il sindaco di Gorovo Igliavece, come vi accennavo prima, e ci porterà la sua esperienza. Ma prima chiedo a Christian, perché voi avete un'esperienza specifica e importante di utilizzo delle tecnologie, anche delle nuove tecnologie digitali nel vostro infopoint, con le esperienze che non siete i soli. Però avete un'esperienza di eccellenza su questo. Quindi, qual è il vostro suggerimento per favorire la conoscenza, l'apprezzamento e poi anche la promocommercializzazione, la vendita dei prodotti Città Slow Tour, dei prodotti artigianali autentici e la promozione dell'enogastronomia, che da voi è altrettanto importante come molte altre Città Slow della Rete. Grazie. In rural town, like mine, slow tourism is easier and revolves around nature. Silly is part of the Eden, European Destination of Excellence Network. Five years ago, we received an award for Slow Foot Basket for Cyclists, a great reward. Grazie. We have 300 hectare of forest in resta, and we have structured many walk and cyclists. This local network joins that of the other municipality to create large circle throw to the region. This is called the knot point. This tourism has particularly developed during the period of the heat crisis we are now experiencing. We have also developed tourism around local products. Silly is the first slow food commune in Belgium. In the last five years, we have doubled the number of farm shops and shops selling local products. But for 20 years, we have been defending the fact that quality culture must also be present in rural communities. We have two festivals in our territory, a classical music which is organized in castle, church and beautiful heritage site. From Fremont, we welcome professional musicians from all over the world for a total of 17 concerts. I would like to remind you that if you have professional classical musical in your town, we are interested in contacting them for the cheetah slow concert that we will organize next May. Finally, every year for a week, we have a theater festival culture and tourism does go hand in hand. The tourism office coordinate the dissemination of this touring politics and we have less time I you have the picture of the. Of course, it's the panneau numérique. The panneau numérique. The panneau numérique. We have a panneau numérique for all the information on touristic information, cultural information and we have a contact with all the cheetah slow cities in Belgium, but also with the cheetah slow international. e questo è molto importante per il codice. Non il codice. Scraggio. 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 Il turismo coordinato questa informazione con questo bordo. Città Slow con questi totem e pannelli con uno screen attivo dove ciascuno in qualunque Città Slow trova le informazioni di quella Città Slow ma anche quella di tutte le altre Città Slow. Sia eventi che heritage che il patrimonio naturale, culturale, orari, visita, turismo. Quindi, very, very good. Congratulazione, perché è molto efficace. È molto importante per il turismo. E abbiamo Aden. Aden è l'europeo reso per la piccola città. Ma abbiamo anche l'europeo reso. È un'altra città. Un'altra città. Un'altra città. Un'altra città. Un'altra città. è molto importante per molti personaggi. E per il rischio di sviluppare, il turismo è molto importante! L'europeo reso per l' солнicologia per il viaggio informativa. Grazie Cristiano. Molto bene! Molto esempio in particolare, ma anche di planificazione. Adesso parliamo con Jaset Kochka. Allora, voi siete un esempio nella rete internazionale di Città Slow perché avete saputo unire la rivitalizzazione dei centri storici, dei borghi Città Slow con la promozione turistica. Allora, noi siamo molto interessati a capire come avete gestito, qual è il management, il concetto di questo perché Città Slow è un modo innovativo, un modo concreto per gli amministratori ma anche per i cittadini, per i cittadini di entrare nel dibattito della rivalorizzazione dei borghi storici o non storici o comunque dei territori di qualità. Perché tutti parliamo di valorizzazione del problema e metterci d'accordo sul come e cosa. E qui entra la direzione Slow. Noi proponiamo la direzione Slow che voi avete seguito nel vostri progetti di rivitalizzazione, prima in Varmia, Mazzuria, Regione e poi in tutta la Polonia. Grazie. You are completely right. Good evening, everyone. Let me speak Polish because it's so late and I had two years in Poland and speak only Polish, but it will be better for you if I use help of the translator. So let's start. Can we have a second microphone? Thank you. Szanowni Państwo, pytanie, które zadał mi Pier Giorgio jest tak naprawdę fundamentalne. Bo jeżeli zastanawiamy się czym jest Cita Slow, jak godzić to co my chcemy robić w ramach Cita Slow, zarówno z substancją miejską, jak i ludźmi, którzy tą substancję miejską zamieszkują, to tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi. Naprawdę, jeżeli popatrzymy na miasta chińskie, na miasta włoskie, na miasta polskie i nawet w samych miastach polskich, one się bardzo różnią od siebie, bo są to malutkie miasta położone zupełnie w miejscach bez potencjału turystycznego i są zamożne miasta, które tymi centrami turystycznymi już są. To, żeby znaleźć jakiś złoty środek, to naprawdę trzeba dosyć długo pomyśleć i, mówiąc kolokwialnie, pokombinować. Allora, signore e signori, questa domanda che è stata già posta da parte del segretario generale, è una domanda di, direi, valenza fondamentale, perché noi dobbiamo affrontare una sfida. Questa sfida consiste nel far coesistere questo tessuto architettonico e tessuto sociale. Qual è la risposta su come affrontare questa sfida? Una risposta unica non esiste. Se guardiamo per un attimo gli esempi provenienti dalla Cina, dall'Italia oppure dalla Polonia, c'è tanta diversità tra le città, anche nella Polonia stessa, nella regione stessa. Vi sono anche delle città che sono già, queste città molto ricche, anche magneti turistici e altre, che non sono così costruite in maniera coerente e hanno tanta strada da fare. Perché in tale luce è molto, molto difficile trovare questo denominatore comune e se stiamo per riuscire, dobbiamo combinare. I tutaj, tak naprawdę, bardzo mocno przysłużyła nam się nasza obecność w sieci Cita Sloan. Razem z Pier Giorgiem i innymi przyjaciółmi odwiedzaliśmy różne miasta na kilku kontynentach. I dzięki temu, że mogłem zobaczyć, w jaki sposób, a również i moi poledzy z Polski mogli zobaczyć, jak bardzo różne problemy trzeba rozwiązywać. I one były rozwiązywane, bo miasta w Korei potrzebowały zwolnić. Tak jak mówił Tung Soyer, miasta w Turcji potrzebowały przyspieszyć. I gdy mogliśmy te wszystkie doświadczenia spróbować przenieść na grunt polski, było nam znacznie łatwiej. I to jest wielka wartość tych naszych spotkań i tego, że możemy wspólnie wymieniać się doświadczeniami jako miasta Cita Sloan. I pertanto jest to importantio notowanie, że podanie jedziemy z Tung Soyer, naprawdę to była jedziemy z burmistrzem. W Zatrzymałem na grzegę, powitrze dogstruować się, aby zिgać się narzędzienie. Solo viaggiando il mondo insieme con i nostri colleghi, insieme a Pier Giorgio, vedere cosa si fa nei vari continenti ci può anche dare qualche risposta. Viene fuori che in certi posti nel mondo bisogna ralentare i ritmi. Oppure allo stesso tempo ci sono anche dei paesi dove bisogna velocizzare le cose, come stanno le cose. Per esempio nella Turquia, come ha detto sindaco Soyer. Gdy odwiedzaliśmy np. Norwegię, tam zastanowiły mnie i rzeczywiście pokazał mi się model współpracy z mieszkańcami, bardzo bliskiej, niesformalizowanej. I spróbowaliśmy to przenieść trochę także na grunt polski, żeby rozmawiać z mieszkańcami, włączać do całego procesu planowania oczywiście pracowników urzędu i dopiero na samym końcu formalizować nasze dokumenty. Anche visitando Norwegię, sono rimasto di stucco quando vedevo questo modello del tutto collaborativo con le comunità locali. questa collaborazione strettissima con la gente, con le comunità e questo volevamo molto tracchiantare nella Polonia. Allora, anzitutto bisogna avere un vero e proprio dialogo con la gente, poi si fa la progettazione, però questa progettazione dovrebbe anche includere la voce della gente, la voce dei proprii abitanti e poi si formalizza le cose come l'ultima tappa del tutto processo. Było to bardzo ważne, jeśli chodzi o to, jak chcieliśmy rewitalizować te nasze zabytkowe centra, bo one nie mogły służyć tylko turystyce, dlatego że sama turystyka nie wystarczyła. Potrzebowaliśmy, żeby z tych rewitalizowanych zabytków, domów kultury, placów wokół ratuszu albo samych budynków publicznych nauczyli się korzystać ludzie, a Polacy nie są specjalnie wylewnym narodem i nie potrafimy tak jak w Włosi wyjść wieczorem wszyscy do małych restauracijek. Naszych mieszkańców tego trzeba było nauczyć. To była bardzo ważna część tych projektów, które robiliśmy. Myśmy nie tylko rewitalizowali kamienie, bruki i pomieszczenia, przestrzeń. Potrzebowaliśmy nauczyć ludzi cieszyć się tymi rzeczami, które dla nich robiliśmy. Z�y Europejskiej skończy MK. Z�y Europejskie Właśnie, w tej zwie ływie dato qualche qualche prospettiva su come affrontare questo impegno e questo impegno relativo alla rivitalizzazione dei nostri centri storici perché sapevamo sin dall'inizio che questo non dovrebbe solo e solitamente servire oppure giocare a favore del turismo del mondo dello sviluppo turistico perché turismo non basta da solo volevamo non solo rivitalizzare in questo tessuto architettonico le pietre e le pietre interiori monumenti eccetera eccetera volevamo e volevamo per intenderci far imparare alla gente come usire come come usare questi in questi monumenti questi spazi rivitalizzati perché in polonia non esiste questa cultura di venire di venire fuori insieme la gente non sa fin da allora non sa in tale modo come in Italia come si usa questi questi monumenti perciò dobbiamo fare dobbiamo trovare una strada per correre. i jako taki bardzo konkretny przykład powiem że udało nam się zrewitalizować gotyckie piwnice w moim ratuszu w moim malutkim miasteczku które liczy 4 tysiące mieszkańców leży tuż przy granici z Rosją i tak naprawdę turystyka u nas prawie nie istnieje. A dzisiaj tych turystów pojawia się troszkę ale w tych zrewitalizowanych piwnicach gdzie mamy coś na kształt restauracji, i caviarenchi, zaczęli się w końcu pojawiać moi mieszkańcy. I to tak naprawdę cieszy mnie najbardziej. Allora un esempio concreto, cioè un esempio molto illuminante proveniente dalla mia città, che ha più o meno 10.000 abitanti. Non è un posto davvero turistico, perché è ubicato alla frontiera, allora vicino alla frontiera con la federazione russa. Non funziona come una forza che attira i turisti, o mas, però abbiamo anche, siamo riusciti a rivitalizzare le botteghe gottiche, che sono adesso anche molto attraenti per la nostra gente. Loro sono i veri visitatori e questa è una cosa che mi rende molto contento. non solo turisti, turisti vengono, hanno cominciato a venire, però ciò che è importante è che questo serve anche alla mia gente. Grazie. sto guardando queste queste case queste allora dove posso anche intravedere i miei i miei abitanti grazie 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 jacek davvero affascinante anche la conclusione il riferimento alle case del nostro logo di piergiorgio maoloni beh che dire è veramente importante quello che dici il turismo non è lo abbiamo sempre detto città è anche eventualmente un marchio di qualità ma è soprattutto un progetto economico e sociale quindi noi non possiamo mettere avanti il turismo all'aspetto della qualità della vita dei residenti no diciamo e quindi il turismo non può sloggiare gli abitanti per motivi di business questo è fuori è fuori discussione e questo è importante però perché questo fa il senso del limite spiega perché parliamo di slow e chi ce l'ha obbliga chi ci obbliga a parlare di slow adesso tutti siamo slow perché siamo obbligati anche da condizioni esternalità negative globali però è il punto fondamentale è ovvio che se una città un villaggio non ha turismo zero turismo assolutamente deve mettere in campo tutte le forze energie e le possibilità progettuali per aumentare il turismo ma a determinate condizioni senza fare elite ma facendo delle scelte di programmazione specifiche come quelle che state facendo e proponete voi giustamente nell'esperienza polacca grazie veramente importante adesso io dato che non abbiamo tantissimo abbiamo con una ventina di minuti sentirei gli ultimi due sindaci in sindaci insomma un sindaco è una vice sindaca scusa mattia perencini e vera rossi e poi darei le conclusioni poi al sindaco di belluno e acco massaro e poi se qualcuno nel mentre tra la fine dei nostri due sindaci e le conclusioni di massaro volesse fare qualche domanda siamo qui prego grazie ai relatori allora mattia perencine sindaco di farra di soligo città slow beh allora intanto farra di soligo zona tra l'area prosecco unesco e il piave è una zona fortunata anche dal punto di vista diciamo anche geografico e in generale però oggi abbiamo parlato durante il nostro coordinamento internazionale alla mattina dell'importanza del turismo della parte di turismo outdoor o comunque escursionismo nella natura sentieri hiking abbiamo proprio rimarcato questo anche col sindaco di chiavenna che è coordinatore di un ufficio di città slow internazionale a disposizione di tutte le città slow internazionali per l'outor perché ha è un punto di eccellenza nazionale e internazionale oggi c'è la voglia di uscire alla radice della parola escursione excurrere no uscire fuori bene abbiamo tutti una gran voglia di uscire fuori naturalmente in ambienti naturali di qualità non la periferia inquinata ma magari si preferisce un bosco un sentiero quindi oggi tutti abbiamo compreso tutti i miliardi di terrestri hanno compreso suddenly improvvisamente cosa vuol dire uscire fuori lungo un sentiero però bisogna anche evitare l'effetto pizzo boe 2020 bisogna evitare la l'assembramento per tempo e per luogo eccessivo sull'ambiente c'è anche una capacità di carico la carrying capacity dei sentieri e dei luoghi quindi anche questo va un pochino governato e pensato quindi bisogna valorizzare i sentieri in termini di città slow tourism naturalmente tenendo sempre a conto di come utilizzarli e anche poi c'è un piano di naturalmente di gestione come accennava anche il nostro presidente migliorini di gestione di manutenzione di legalizzazione di questi itinerari che vanno comunque inseriti a pieno titolo nell'offerta turistica non sono un aspetto complementare non tanto scherzando diciamo che i sentieri sono come la spiaggia per il comparto turistico mare la spiaggia è necessaria ma non è sufficiente anche i sentieri sono necessari ma non sono sufficienti per farne una parte turistica ci vogliono i servizi ci vuole qualcuno che ci lavori sopra nuovi soggetti cooperative di trasporto bagagli che non lo so guide qualunque opportunità poi lungo il sentiero quindi punti tappa leno gastronomia l'offerta ricettiva bisogna ingegnerizzare se parliamo di turismo come attività produttiva e non solo come leisure ok ecco questo è un po' il tema che è sul tavolo di città slow outdoor in questo momento sentiamo la tua esperienza a farra di solivo intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito saluto anche i colleghi sindaci che ci hanno preceduto mi hanno preceduto con i loro interventi tra l'altro ricchi anche già di spunti importanti questo per me oggi come sindaco è il primo incontro dopo essere diventato città slow diventato città slow eh qualche mese fa e quindi è sicuramente un appunto d'orgoglio essere qui oggi a rappresentare ecco la mia comunità in una giornata così importante eh farra di soligo come eh hai detto tu prima è un comune di novemila abitanti a un'ora da venezia e a un'ora da cortina giusto per individuare anche la posizione e fa parte di una rete di comuni che dal luglio del 2019 è stata insignita di patrimonio unesco eh come paesaggio culturale sul termine paesaggio culturale potremmo eh probabilmente parlare diverse ore e questo la dice lunga su quelle che sono le opportunità e su quello che è il nostro territorio infatti il nostro territorio eh lo conoscete come le colline del conegliano valdobiadene prosecco superiore dico prosecco superiore per diversificarmi anche su un termine di qualità di prodotto prodotto che ovviamente ha un nome internazionale che è conosciuto appunto dappertutto noi eh da fin da subito dal 2019 qui con me c'è anche il mio assessore al turismo Silvia Spadetto abbiamo fatto un grandissimo lavoro eh di conoscenza del nostro territorio eh abbiamo moltissimi sentieri eh che corrono appunto sulle dorsali collinari e su questo eh noi come comune ci siamo subito attivati affinché il turista che viene a farra di soligo possa trovare fin da subito una risposta a quelle che sono le esigenze a quello che è la voglia di eh respirare la natura di conoscere e di vedere anche quel paesaggio che è stato riconosciuto UNESCO ecco perché noi abbiamo fatto una mappa eh con tutti quanti i sentieri eh siamo stati proprio noi i primi fra tutti i comuni dell'area UNESCO a a dare il via a questo tipo di attività tra l'altro anche facendola ovviamente in italiano ma soprattutto in inglese perché come come dicevi tu il turista che adesso arriva nelle nostre zone è un turista diverso rispetto a quello che era il turista di qualche anno fa è un turista che gli piace guardare è un turista che gli piace scoprire è un turista che gli piace vivere delle emozioni nuove e quindi abbiamo fatto questa mappa e adesso anche l'UNESCO ci sta seguendo in questa strada affinché il turista possa avere una risposta subito e certa di quello che trova nel nostro territorio abbiamo fatto anche di più nel senso che eh spesso e volentieri i nostri abitanti non conoscono a fondo le bellezze del loro territorio magari non conoscono neanche gli angoli che hanno i nostri comuni o i posti dove loro vivono e devo dire che c'è una riscoperta di questo purtroppo dico purtroppo dovuto alla pandemia quando ci hanno rinchiuso dentro casa e quindi non potendoci muovere o potendoci muovere a ridosso della residenza scappavano tutti sulle colline e quindi hanno riscoperto dei luoghi che magari non avevano mai conosciuto o che non avevano neanche l'esiste l'idea che esistessero e su questo e su questo abbiamo fatto un passaggio successivo cioè quello di andare all'interno delle scuole a formare anche i nostri i nostri ragazzi ma non solo i nostri ragazzi ma anche gli insegnanti e quindi abbiamo attivato dei corsi con le scuole prima formando gli insegnanti facendo ehm capire agli insegnanti e quindi poi di conseguenza anche gli studenti dove vivono quelle che sono le potenzialità quello che richiede il territorio e soprattutto una riscoperta dei valori culturali e identitari di un'area importante come la nostra ma che può essere tranquillamente esportata in tutto il mondo per cui eh un lavoro molto importante questo che ha visto anche la nascita di un'altra mappa ovvero una mappa in cui abbiamo eh individuato tutte le attività recettive del nostro comune oltre che tutte le attività e le aziende agricole perché come dicevo prima spesso e volentieri non ci si conosce neanche fra vicini di casa invece bisogna iniziare a ragionare non più per campanile non più per singolo comune ma bisogna iniziare a ragionare come ehm comuni con termini come con relazioni bisogna lavorare e fare un lavoro di squadra ecco perché noi abbiamo iniziato questo percorso che per noi ripeto è una una novità se vogliamo anche dire così eh in città slow proprio perché abbiamo eh tutti gli interessi nel poter eh conoscere nuove realtà e cercare di fare rete eh portando appunto un turismo ma un turismo di qualità perché non so se voi conoscete le colline del Conegliano Valdobbiadene sono comunque dei luoghi bellissimi a qualsiasi ore del giorno e della notte eh anche con le stagioni ma anche col cambio eh della luce del sole hanno dei colori dei paesaggi veramente che ci lasciano a bocca aperta anche noi che le viviamo costantemente e questo è un 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 punto per noi interessante un punto per noi fondamentale per cercare di farle scoprire a più persone possibili ma dobbiamo anche ricordarci che le nostre colline sono dei luoghi di lavoro perché eh in queste colline viene coltivata la vite e quindi viene fatto il prosecco quindi noi abbiamo bisogno di un turismo di qualità non un turismo di massa perché eh si sta facendo un grosso lavoro anche sull'accessibilità a questi luoghi perché ripeto essendo luoghi di lavoro essendo luoghi eh dove abbiamo una grossa sentieristica dobbiamo anche cercare di portare il turista in luoghi sicuri quindi non un turista che noi eh lo facciamo venire solo per fargli spendere i soldi ma vogliamo dare una qualità alla nostra zona ma soprattutto dare anche un servizio efficiente ed efficace a chi viene nel nostro comune nel nostro territorio e che possa poi ritornare perché è rimasto piacevolmente colpito non solo da quello che è il luogo da quello che è il paesaggio da quello che è l'aspetto eh culturale e non gastronomico ma soprattutto anche per l'aspetto relazionale che c'è con la cittadinanza con la popolazione locale. Questo è un primo un primo inizio per noi perché è un'amministrazione piuttosto giovane nel senso che noi siamo due anni eh che amministriamo il comune di Farra di Soligo però è un progetto che si basa su un lungo periodo proprio per cercare di potenziare di portare sempre più in alto quella che è una realtà che sta prendendo sempre più piede quella che è una zona che ha avuto la fortuna e dico ha avuto la fortuna di essere inserita all'interno della lista dei siti unesco quindi io non posso che ringraziarti ringraziare il presidente Migliorini per per l'invito fatto oggi e l'auspicio è quello di poter ospitare eh tutte le persone che mi hanno preceduto ma soprattutto eh potervi ospitare a Farra per organizzare proprio anche un tour di tutta la zona dal conegliano valdobiadene sito unesco. Grazie. Grazie a Mattia per il Cine raccoglieremo l'invito collettivamente o singolarmente verremo a trovarti e le tue parole però ci confortano e questo vale per tutti per tutte le città slow è possibile sentendoti proprio coniugare questi aspetti perché ciascuno ogni territorio è diverso ha delle caratteristiche diverse ma diciamo che il cliché il modello eh può essere lo stesso è quello di rispettare il lavoro e creare condizioni naturalmente le più autentiche le più eh salubri possibili per il turista il turista viaggiatore il turista curioso il turista che vuole non collezionare luoghi ma scoprirli entrarci conoscere le esperienze le persone e mi è piaciuto anche riferimento alla comunità ospitale che è la cosa più difficile lo sappiamo tutti non è facile convincere chi non vive di turismo non è un operatore del turismo dal punto di vista eh diciamo economico e commerciale essere ospitale cioè saper accogliere il il visitatore e qui arriviamo a parlare con la nostra vice sindaca ma insomma diciamo sindaca eh questa sera ti promuoviamo sindaca Vera Rossi potremmo eh adesso io prima di parlare di lei e dico c'era una volta appunto eh l'altro trentino eh stiamo parlando della destra idrografica del torrente la vis la visio e stiamo parlando della valdicembra della media valdicembra e c'era un paese c'è un paese che si chiama grumesse che oggi si è fuso hanno compiuto una fusione di comuni nel comune di Altavalle e era un luogo del trentino era è un luogo del trentino senza dico era era senza strutture particolari dal comunista ricettivo e a differenza di molti altri luoghi del trentino che invece sono ricchissimi di alberghi di e quindi il comune si è posto eh proprio dall'inizio anche poi entrando in città questo aspetto hanno per esempio utilizzato la vecchia caserma dei carabinieri eh inutilizzata facendone eh un un ostello un ostello di seconda e di ultima generazione un ostello che è meglio di un albergo magari facendo fare i letti alla falignameria eh locale di grumesse eh quindi utilizzando eh l'artigianato locale eh nel mentre insieme all'ostello è stato costituito un piccolo negozio perché nel paesino non c'era più un negozio per comprare alimentari quindi bisognava un'operazione del comune pubblico la parte pubblica che rivitalizza se stesso per evitare l'abbandono la desertificazione sociale poi c'è molto altro che adesso ci spiega avete fatto il green grill dopo aver favorito le produzioni eh locali hanno costituito sulla via principale un piccolo emporio che detto così è riduttivo e molto di più è un hub per vedere eh tutte le assaggiare e acquistare tutte le le cose migliori che ci sono sul territorio cosa avete un rifugio comunale in alta quota hanno un albergo del comune ovviamente dati in gestione a famiglie con gare da palto insomma ci dovete spiegare come si fa per un altro comune valorizzarsi valorizzare se stessi a 360 gradi in termini slow esattamente quello che avete fatto voi negli ultimi 5-7 anni siete un modello di una veramente di una realtà che si ripensa e e davvero arriva all'obiettivo anche con la progettazione partecipativa eh è stato detto bisogna partecipare lo diceva anche jashek la popolazione deve essere coinvolta non puoi calare dall'alto un progetto di questo genere vera perfetto grazie a tutti e sì però l'hai detto molto e vi racconto brevemente la nostra esperienza perché credo insomma che proprio passando da questo racconto molto pratico pragmatico di quello che abbiamo fatto siano molti i principi di città slow credo che siano tutti ben esplicitati e si parla dei primi anni 2000 e l'amministrazione comunale di allora c'era un tema enorme che era quello dello spopolamento noi viviamo a 40 chilometri da trento ma siamo a 20 minuti da cavalese a 40 minuti da moena quindi immaginate insomma una zona veramente forte dal punto di vista turistico e noi vivevamo in un piccolo paesino di 400 abitanti che si stava pian piano spopolando per andare verso la città banalmente il comune aveva una disponibilità di edifici pubblici dismessi ormai non più e grazie all'intuizione qui c'è stata la possibilità di avere accesso a un fondo nazionale che per i comuni disagiati che era stato completamente abbandonato da tutti i giornalisti soldi e insomma avevamo un progetto pronto in colpo di mano è stata una cosa velocissima siamo riusciti a ristrutturare tutte queste tutti questi edifici perché l'idea era quella di provare avendo un tessuto anche sociale tra i nostri cittadini molto attivo abbiamo un sacco di associazioni tutte le persone partecipano abbiamo detto proviamo a far sì che in qualche modo tutti i turisti che arrivano in trentino per ovvie ragioni riusciamo ad intercettarli anche noi in qualche modo non avevamo niente quindi siamo partiti e abbiamo creato le strutture appunto questo stello con 50 posti letto una malga in quota che abbiamo riconvertito in rifugio il caseificio turnario nei masi del paese l'abbiamo trasformato in una locanda con alcuni posti letto e a quel punto avendo le strutture pronte la domanda che si è un'altra domanda che si è posta al comune è adesso cosa cosa come facciamo a gestirle avevamo due strade una era quella di dire facciamo dei bandi gestori che l'altra che è stata quella che è stata scelta attraverso un percorso partecipato un sacco di incontri abbiamo costituito una società che è nata nel 2008 io sono presidente adesso di questa società la società conta 134 soci il socio di maggioranza il comune gli altri sono i cittadini le famiglie le imprese del abbiamo una piccola zona artigianale legata alla filiera del legno da noi e le associazioni la prolocco gli alpini sono tutti sarà un quote insomma di 100 euro con un capitale sociale per dirvi di 89 mila euro 45 mila euro le messi in comune 44 mila abbiamo raccolti dai nostri cittadini che hanno deciso di investire evidentemente a fondo perduto ma sapendolo in questo progetto la società si occupa di gestire le strutture e si occupa di fare promozione del territorio mandiamo a fiere partecipiamo a fiere evidentemente legate ai nostri mondi insomma al mondo sul turismo sostenibile organizziamo eventi e facciamo formazione è sempre stato questo insomma un mal sentito anche dai colleghi insomma riuscire a far passare dai nostri cittadini che questo tema è importante perché quello che noi possiamo offrire a chi viene da noi siamo noi banalmente siamo è la nostra è il fatto di arrivare le persone ti salutano sentirsi accolto sentirsi tranquillo stare stare come casa trovarsi a casa anzi forse meglio perché è molto diciamo che tutti i nostri cittadini sanno ben accogliere insomma le persone e questo insomma è stato il terreno favorevole che ci ha permesso di avviare questo percorso nel 2016 per motivi insomma noi abbiamo come diceva per gioco siamo diventati comuni di altavalle in quattro comuni cioè prima eravamo abbiamo fatto una fusione di quattro comuni e siamo diventati un comune di 1600 abitanti in quattro quindi immaginate insomma la dimensione di dimensioni dei nostri paesi e il progetto continua adesso abbiamo avviato tutto un progetto legato al tema dell'ospitalità diffusa noi abbiamo i nostri piccoli centri storici con un sacco di case abbandonate l'idea è quella di riuscire a dare una nuova vita a queste case e appunto aiutando le persone sia a metterle sui vari siti di prenotazione fare le foto aiutarli anche con la burocrazia per proprio per come avviare la scia per come tutte proprio veramente le cose più pratiche chiaramente per il comune questa è la valenza di avere un patrimonio urbanistico che non cade a pezzi banalmente perché sappiamo insomma se nei centri storici una casa più è disabitata più si rovina e si rovina anche quello che ci sta intorno quindi questo è un tema sul quale stiamo lavorando in questo momento e dal 2011 siamo cittasò accanto ovviamente a questo percorso sul tema del turismo molto importante abbiamo ci sono molte altre attività insomma che ci hanno permesso di entrare legate alla all'espermio energetico al recupero anche agricolo tutta una serie di attività esatto noi siamo orgogliosi la nostra chiocciolina insomma ce la portiamo ovunque perché è proprio un piccolo marchio tant'è che anche quando siamo l'unica in trentino città slow non ce ne sono altre e infatti anche quando tante volte voi siete quelli voi siete quelli della città slow ormai siamo riconosciuti insomma no come questi per noi è importantissimo come importantissimo poi fare rete con tutte le altre città slow in italia non solo infatti questa sera per me è stato davvero emozionante può sembrare una banalità perché evidentemente se siamo qui tutti sotto questo logo ci sarà un motivo e vuol dire che condividiamo delle cose ma sentire da tutti i colleghi le stesse parole esistenti temi in in posti così dislocati nel mondo insomma non è una banalità anzi insomma quindi bene siamo continuiamo su questa strada grazie vera allora noi siamo nei tempi dicevamo 18 e 30 io ho parlato anche troppo devo fare il moderatore non il relatore quindi non aggiungo altro però do la parola a jacopo sindaco di belluno per le conclusioni di rito come credi intanto grazie a tutti per la vostra attenzione grazie allora io ringrazio tutti per la per l'attenzione per la pazienza ringrazio moltissimo i relatori eh che hanno insomma hanno esposto queste queste interventi molto interessanti e grazie mille Pier Giorgio che sei sempre estremamente preciso e attivo eh non sono sicuramente la persona giusta per tirare delle conclusioni però eh direi che ci sono dei fatti evidenti che credo possiamo sicuramente sottolineare e il primo è certamente che essere città slow evidentemente non è un'etichetta eh non è una scelta astratta ma direi che è prevalentemente un processo culturale eh questo lo abbiamo capito molto bene noi a Belluno e e siamo contenti di poter in qualche modo partecipare a questo processo culturale che è un processo culturale interno cioè verso i propri cittadini e con i propri cittadini ma soprattutto è un processo culturale come possiamo dire globale di squadra ehm oggi ho capito che ehm che possiamo lavorare tutti insieme appunto per un 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 cambiamento del nostro modo di vivere le nostre città del nostro modo di vivere personale questo credo sia una grande opportunità ehm e poi direi che eh mi tocca dire che tutto ciò che noi sentiamo raccontare qui rende sempre più evidente che in qualche modo questo cambiamento di paradigma è un cambiamento che la società ci richiede nell'anno duemila ventuno eh qualcuno può essersene accorto prima qualcuno se ne sta accorgendo adesso qualcuno se ne accorgerà fra poco ma questa è la strada che credo che la nostra società ci richiede infine un aspetto che metto in relazione a quello che avevo detto proprio in apertura del mio intervento ma perché credo che sia importante se vogliamo che i processi di cambiamento siano incisivi eh questa di città slow e di questa filosofia diciamo di gestione delle nostre città rappresenta un'opportunità economica e io spero che l'opportunità economica possa essere la leva il il motore attraverso cui il processo diventi sempre più irreversibile e sempre più veloce io ringrazio eh di cuore tutti i nostri ospiti tutti i nostri relatori spero vi siate trovati bene a Belluno e ma con molti di voi ci vediamo poi questa sera alla cena e speriamo di incontrarvi ancora grazie ancora della vostra presenza